Come era prevedibile e come già capitato visti i precedenti, l'ordinanza riguardante l'istituzione dell'isola peidonale in un tratto di Corso Umberto a Modica ha provocato le prime polemiche e le prime richieste di un dietrofronte per evitare presunte perdite commerciali. Ricordiamo tra l'altro che il provvedimento prevede la chiusura al traffico e il divieto di sosta solo nel tratto di Corso Umberto, compreso tra Piazza Municipio e Corso Garibaldi, dalle lunedì alle giovedì tra le 16 e le 22. Nello stesso tratto, dal venerdì alla domenica, l'isola peidonale sarà attiva dalle 16 alle 24. I autobus dell'Aste, che collegano Modica Bassa con il quartiere Sorda, transiteranno per la via Modica Ragusa e la statale 115. Non appena l'ordinanza verrà notificata alle forze dell'ordine e sarà collocata la segnaletica, il provvedimento diventerà operativo. L'isola peidonale in questione è stata decisa dall'amministrazione comunale dopo un incontro tra una delegazione di commercianti del centro storico e il sindaco di Modica, Ignazio Abate. A favore della sua istituzione, la quasi totalità dei turisti che in questo tratto di Corso Umberto sono soliti passeggiare o sostare ai tavoli di un bar, una conquista a poter sorseggiare una bibita o apprezzare il gusto di una granita e di un gelato senza i fumi di scarico delle auto e dei bus o l'insopportabile smarmittare dei motorini. Crediamo, commentano, che vietare un piccolo tratto del Corso alle auto in fasce orarie limitate non possa costituire un pericolo per le casse dei commercianti del centro storico. Di parere opposto, invece, proprio i commercianti che preferirebbero Corso Umberto sempre aperta al traffico veicolare, in modo che le persone, soprattutto i clienti, possano posteggiare a pochi passi dal negozio dove intendono effettuare gli acquisti. Grazie.